Jane Alexander, ex concorrente del grande fratello VIP, ha deciso di mettersi a nudo ai microfoni di Verissimo svelando il contenuto della conversazione avuta con il suo ex Gianmarco una volta uscita dalla casa più spiata d'Italia abbiamo pianto e riso tanto. Jane Alexander sparita dopo l'eliminazione dal grande fratello VIP dopo essere stata eliminata dal reality, l'attrice americana Jane Alexander aveva fatto perdere le tracce di sé. Elia Fongaro, ospite in diverse trasmissioni mediaset, aveva infatti rivelato di averla vista solo il giovedì sera, dopo la puntata del grande fratello VIP, dopodiché non aveva avuto più contatti con lei.Ancora più sconcertanti sono state le dichiarazioni dell'ex Gianmarco. L'uomo con il quale Jane aveva una relazione quando era entrata nella casa. L'ex della Alexander aveva rivelato di non aver avuto affatto notizie di Jane, l'aveva sentita solo una volta telefonicamente e poi il nulla.Il pubblico da casa ha, così, iniziato a domandarsi che fine avesse fatto l'attrice. Punto alcuni post su Instagram, inoltre, avevano fatto preoccupare i follower. L'Alexander, infatti, sul suo profilo Instagram aveva pubblicato dei post nei quali si mostrava profondamente malinconica e turbata, al punto da dichiarare addirittura non riesco a mangiare. Video virgola le dichiarazioni di Jane Alexander a Verissimo dopo un po' di tempo, però, pare sia sopraggiunta la verità. Nel corso di un'intervista con Silvia Toffanina al programma Verissimo, Jane ha rivelato di aver incontrato il suo ex Gianmarco ed ha anche spiegato cosa si sono detti. Ho visto Gianmarco due giorni fa ha esordito l'Alexander, ha poi continuato spiegando di aver confessato all'uomo di provare delle fortissime mancanze nel loro rapporto, problemi che l'hanno spinta tra le braccia di un altro uomo all'interno della casa, e lì a Fongaro a punto punto la donna ha spiegato di sentirsi ignorata. Inoltre ha aggiunto abbiamo pianto e riso tanto, ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia fosse finita. Jane, a quanto pare, ha deciso di porre definitivamente, e in modo ufficiale, fine al suo rapporto con Gianmarco. Questo, dunque, cosa significherà? La donna sarà pronta per affrontare una nuova relazione con Elia oppure no? Nel frattempo l'ex Jeff Fino sta assumendo un comportamento molto distaccato, video, non parla quasi mai di Jane e, soprattutto, è molto restio ad esprimere le sue emozioni. Ciao!